Sabato 21 maggio è il grande giorno per i devoti di Sant'Agata. Catani infatti si prepara per l'ostensione straordinaria del busto reliquiario della Santa Padrona nella cattedrale. Dalle 7.30 fino a sera è atteso un incessante flusso di fedeli. La macchina organizzativa ha già predisposto il piano di sicurezza. La zona sarà blindata e i fedeli potranno accedere alla cattedrale dall'ingresso più vicino a Piazza Duomo di Via Vittorio Emanuele. Dopo l'adorazione della Santa saranno fatti uscire dal secondo cancello laterale. Una particolare attenzione è stata data ai diversamente abili per i quali è stato previsto un percorso facilitato. La mia sensazione è quella di chi con molto rispetto e con anche molta devozione si avvicina per la prima volta al busto reliquiario e sa che lì ci sono i resti della nostra Santa da venerare e attorno ad essa c'è la religiosità e la fede del popolo catanese nel quale mi sentirò pienamente inserito per la prima volta. La protezione civile infine invita i fedeli a recarsi a onorare la Santa durante tutta la giornata così da evitare affollamenti e file eccessive soprattutto vicino l'orario di chiusura previsto per le 21 e 30. Alle ore 20 sarà celebrata la Santa Messa preseduta dall'Arcivescovo di Catania Monsignor Luigi Renna. Questo servizio è offerto da Ottica Mannino, Pia Sebastiano Catania, numero 257. Qualità, competenze e cortesia a un prezzo contenuto. Controllo della vista gratuito. Richiedi il coupon sulla WhatsApp Line in sovraimpressione e avrai la montatura in omaggio se acquisti un paio d'occhiali completo. Nel cuore storico di Catania il CAF Playa di Buio Giuseppe offre l'assistenza e la preparazione che cerchi e servizi davvero gratuiti. Per la vostra comunicazione e pubblicità aziendale contattateci al 338 37 922 71.